Vodka. Ma se ti facessimo un drink con la vodka, qualcosa tipo il Kaipi Rosco. Sarebbe? Guarda, la base del drink è la vodka, miscelata con mezzo lime e due cucchini di zucchero. È un drink molto semplice alla fine, abbastanza dissettante, ricco di vitamina C. Altrimenti... Altrimenti non potresti farmi qualcosa con lo zenzero o con l'arancia? Bah, anche... Ormai con lo zenzero fanno di tutto, però con l'arancia potremmo fare qualcosa. Dai, ci penso io. No, no, fermo là. Ti faccio vedere io una magia quello. Ok. Mescola il naso. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Mi piace, vuoi cambiare? No. Questa magia qui... È una magia che finisce le passioni. In che senso? Allora è finito. Fai il tuo drink. No. Voi... No. E questo? Ti avevo detto che avevamo unito le nostre due passioni. E' assurdo. 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 Grazie a tutti.